Grazie, allora vi presento i risultati di una applicazione sperimentale del prodotto Gaia, quindi basato sulla meccincovia frutticola, in un ambito certamente pre-fermentativo, però molto particolare, che riguarda l'appassimento delle uve. L'appassimento delle uve è una pratica di trasformazione del prodotto uva che è utilizzata in moltissime situazioni, in moltissime aree vitivinicole italiane, a radici spesso molto antiche, può essere realizzata in modi totalmente diversi, come vediamo qui in queste fotografie, in un caso magari esponendo l'uva alla radiazione solare, che aiuta quindi l'uva a concentrarsi abbastanza rapidamente, oppure in casi che sono più tipici del settentrione, che sono quelli che prevedono la raccolta dell'uva e il trasporto in ambienti protetti, dove quest'uva può essere mantenuta per diverso tempo, quindi con asciugature e disidratazioni decisamente più lente. Il caso su cui noi abbiamo operato è il caso proprio di uve destinate alla produzione di riciotto e di amarone, come sappiamo in questo caso la tecnica dell'appassimento è una tecnica che ha avuto una diffusione molto ampia, al pari appunto della diffusione che ha avuto il vino amarone, che quindi non necessita di presentazioni, e le uve per la produzione di questa tipologia di vino vengono mantenute in un ambiente protetto nel fruttaio per un periodo relativamente lungo, che può superare i tre o arrivare fino ai quattro mesi. Si tratta di uve rosse che vengono poste, adagiate in supporti naturali oppure, come qui rappresentato, in supporti di plastica, i plateau, che possono essere chiaramente movimentati con molta più agilità e portare anche a situazioni come quella che vedete in figura, in cui fruttai vengono costruiti appositamente per lo stoccaggio delle uve per questi lunghi periodi di tempo e quindi che prevedono anche l'utilizzo di grandi masse d'uva che devono essere gestite in modo molto accurato. Come ho detto l'uva rimane in questi ambienti per periodi relativamente lunghi e la gestione dell'uva durante questo periodo è una gestione che può presentare delle problematiche, alcune delle quali sono problematiche storiche della gestione dell'uva durante l'appassimento, altre invece sono problematiche emerse più di recente, quindi legate anche ad alcuni cambiamenti che ci sono stati proprio anche nelle quantità di uve che vengono utilizzate. Lavorare con una piccola quantità di uva in un ambiente piccolo permette ad esempio di poter fare anche una cernita delle uve durante il processo di appassimento, cosa che generalmente non si può fare in una situazione molto più grande come quella raffigurata in questa figura in basso a destra, in cui chiaramente quando le uve vengono posizionate in una data posto del fruttaio poi non possono più essere movimentate. E quindi la gestione di grandi masse d'uve richiede anche la corretta applicazione di condizioni all'interno del fruttaio che devono garantire l'uniformità della disidratazione in tutte le sue parti e anche una certa cinetica di disidratazione. E proprio di cinetica di disidratazione vengo a parlare ora perché una delle criticità che emergono sempre più di frequente che probabilmente è legata al cambiamento climatico e in generale all'anticipo delle raccolte di uva è proprio quella legata a quanto rapidamente l'uva va a disidratarsi in un fruttaio. In questo grafico ho riportato la velocità di calopeso di uve che sono state poste nello stesso fruttaio, la stessa varietà d'uva, in tre delle recenti annate vendemmiali. E come si vede una di queste annate, quella indicata in blu, ha presentato una velocità di disidratazione molto più elevata rispetto alle altre, tanto che l'uva era praticamente pronta per essere vinificata in un tempo molto rapido, quasi la metà del tempo rispetto alla velocità che si realizza normalmente. Perché questo è problematico? Perché oggi sappiamo che la velocità di disidratazione deve essere sufficientemente lenta per permettere alle uve di acquisire quelle notte particolari di appassito che poi vengono trasferite al vino. Se l'uva si disidrata troppo rapidamente, questo non avviene, è una semplice concentrazione che poi si porta dietro appunto questo tipo di problematica. Allora come poter eventualmente riportare le uve ad un appassimento, diciamo così, normalmente lento o tradizionalmente lento. Questo lo si può fare giocando con le condizioni ambientali del fruttaio, però questa è una questione molto delicata, bisognerebbe mantenere ad esempio umidità relative non troppo, diciamo così, disidratanti e quindi questo è un grande compromesso che si deve realizzare, principalmente, dico compromesso perché se qualcosa va storto, chiaramente quello che può succedere è la comparsa di marciumi e questo è un vecchio spettro di chi appassiva l'uva anche in passato, cioè il trovarsi l'uva muffita a fine appassimento, vedere questi focolai di uva, questi focolai di muffa, di botrite, che si sviluppano rapidamente e invadono intere parti del fruttaio. Ecco, proprio in questa tematica si inquadra la sperimentazione che è stata realizzata nell'ultima annata vendemmiale, nel 2016, e si è conclusa da poco quindi, una sperimentazione che vede la possibilità di utilizzare l'azione antagonistica di questo lievito, Meccincovia frutticola, nella sua preparazione commerciale Gaia, attività antagonistica proprio nei confronti della botrite, la sperimentazione che abbiamo realizzato è stata fatta su lotti particolarmente grandi di uva che hanno permesso quindi di arrivare fino a delle microvinificazioni e sono state adottate delle condizioni ambientali particolari per indurre un forte attacco di botrite, quindi attenzione, la botrite non è stata inoculata artificialmente sulle uve, ma come vi farò vedere fra un attimo, sono state adottate condizioni ambientali per favorire una diffusione dell'inoculo naturale presente sull'uva. Ecco, in questa situazione si è valutata la possibilità di biocontrollo della Meccincovia proprio nei confronti di queste muffe. Le prove in realtà sono state due, perché purtroppo la prima prova per un problema tecnico si è interrotta abbastanza rapidamente, dopo solo 25 giorni, la prima prova presentava due dosaggi del prodotto Gaia, una a 20 e una a 50 grammi per quintale e la seconda prova poi che invece è stata partita immediatamente dopo con delle uve che sono arrivate in fruttaio, uve a maturazione tardiva che sono arrivate in fruttaio alla fine di ottobre, è una prova che ha potuto durare per un tempo sufficientemente lungo per monitorare, insomma, un appassimento come minimo simile ad un appassimento normale e in questo caso è stato utilizzato solo il dosaggio più alto, quindi il Gaia a 50 grammi per quintale. Quest'ultima prova ha consentito anche di andare in vinificazione e quindi abbiamo anche qualche dato ancora preliminare, devo dire perché la vinificazione e l'analisi dei vini si è conclusa da pochissimo, che però mostrano anche un dato importante che è quello di vedere che cosa poi si vede nel vino. Allora, la varietà di uva utilizzata è la corvina veronese, che è stata appunto posta in questi plateau di plastica, posta non in un fruttaio normale ma in celle, quindi in fruttaio sperimentali più piccoli, nella quale si è potuto controllare le condizioni ambientali, quindi l'umidità e la temperatura durante tutto l'appassimento. Eccolo qui, la vediamo la fotografia del fruttaio. Durante questo periodo, ecco qui le condizioni ambientali, come vedete l'umidità è in azzurro, in blu, vedete che nei primissimi giorni sono stati adottati livelli di umidità decisamente elevati, sopra il 90% per pochissimo tempo, per 3-4 giorni, e questo ha consentito l'immediata diffusione di quello che è l'inoculo naturale di botrite che sta sulle uve. Poi chiaramente questo deve essere controllato a vista, quindi poi dopo l'umidità è stata immediatamente ridotta e è stata riportata a livelli più tipici di un fruttaio normale, commerciale. Per quanto riguarda la temperatura, si sono adottati livelli decrescenti di temperatura, proprio per mimare quello che è invece la temperatura normalmente esistente in un fruttaio, che non è di solito controllata ma è lasciata fluttuare a seconda di quella che è la temperatura esterna, quindi degradante partendo dalla fine di settembre fino a ottobre, novembre, dicembre, fino alla fine dell'autunno. La seconda prova, come ho detto, è stata quella che ha dovuto rimpiazzare la prima, come vedete ripercorre questo tipo di criterio, quindi con umidità elevate all'inizio e poi degradanti successivamente. Per quanto riguarda la cinetica di disidratazione dell'uva, quindi come ho detto prima un elemento importante per capire come sta procedendo l'appassimento, ecco quello che possiamo dire è che non ci sono state delle grandi differenze fra le uve che non sono state trattate con il prodotto e le uve che sono state invece soggette al trattamento con meccincovia. Quello che vediamo è che probabilmente verso la fine della prova l'uva non trattata, ovvero l'uva trattata con la dosaggio maggiore di meccincovia tendeva a rallentare la velocità di disidratazione. Lo si vede anche nella seconda prova, è molto debole, però questo potrebbe indicare una protezione, una minor presenza di botrite. Uno degli effetti della presenza di botrite sull'uva è che accelera la velocità di disidratazione perché chiaramente provoca delle fessurazioni nella buccia dell'uva che facilitano la perdita di acqua. Ecco in questo caso, ma la prova sarebbe dovuta continuare un po' di più, è probabile che questo sia comunque un iniziale sintomo della maggior presenza di botrite sulle uve non trattate con il prodotto. Ecco qualche cosa di più in realtà vediamo attraverso invece un'analisi più prettamente microbiologica delle uve e qui mi sostituisco al collega Fracchetti che purtroppo per un'indisposizione non è potuto essere qui oggi per capire davvero se l'uva trattata e non trattata col prodotto fosse davvero in qualche modo differenziabile anche proprio per la diffusione della botrite. Sono state fatte diverse analisi sulle uve. Intanto diciamo che quale potrebbe essere l'azione di questo lievito, come potrebbe essere il meccanismo di azione di questo lievito ecco questo lo si ipotizza ancora perché non si è certi che sia così ma sembrerebbe essere un'azione che si esplica attraverso la sottrazione di elementi nutritivi per le altre specie. Questo potrebbe avvenire attraverso un agente chelante, la pulcherrimina, chelante particolarmente di ioni ferro che quindi vengono sottratti dal mezzo e in qualche modo anche alla possibilità di essere poi elementi utili per la crescita di altre specie. Ecco questa chiaramente è una cosa che va verificata però come ha già fatto vedere il collega ci sono moltissimi esempi che fanno vedere che comunque la meccanicovia frutticola ha un'azione antagonistica verso diverse specie fra cui la botrite, questo è stato verificato sia con saggi in vitro ma anche con saggi come è stato fatto vedere poco fa sulle mele in uva oppure in frutta durante la conservazione però chiaramente il saggio in vitro è diverso da cosa succede sulla superficie della frutta e la conservazione post raccolta dell'uva o di un altro tipo di frutto è diversa da un appassimento che rappresenta invece una fase di vera trasformazione dell'uva e non una fase che mira a preservare le condizioni iniziali quindi ecco la prova sull'appassimento è una prova diciamo così originale proprio perché valuta un aspetto che fino ad oggi non è stato mai valutato quindi un'azione antagonistica nei confronti del microbiota che vive sull'uva naturalmente durante l'appassimento e che può essere potenzialmente dannoso in qualche caso come nel caso della botrite l'applicazione è stata fatta con una aspersione diretta sulle uve con un aspersore a spalla di una sospensione del prodotto è stato utilizzato quindi un nebulizzatore su ogni cassetta le cassette sono state fatte asciugare per un breve, per qualche ora prima di essere messe all'interno di questi mini fruttai e nei mini fruttai sono state adottate chiaramente alcuni accorgimenti come ad esempio quella di introdurre alcune trappole per evitare il proliferare di alcuni insetti un'altra piaga dell'appassimento ad esempio la drosofila Suzuki che poteva in qualche modo poi portare da un'uva all'altra contaminazioni anche di altre specie di microbi la vitalità del lievito la faccio vedere fra un attimo è stata confermata con metodi basati sul DNA e anche l'attacco fungino è stato monitorato sia con metodi basati sull'analisi del DNA sia con gli isolati su piastra la prova, la seconda delle due, è stata vinificata a fine del processo e vi farò vedere solo un paio di dati incoraggianti in questo senso allora l'uva all'applicazione si presentava in questo modo chiaramente bagnata però è stata rapidamente lasciata asciugare prima di essere immessa nei fruttai alla fine della prova permanevano sull'uva queste macchioline bianche dovute alla sospensione del lievito quindi non si tratta di muffa in questo caso e anche nelle foto successive che vi faccio vedere ecco non confondetele con gli attacchi di muffa che invece sono ben diversi da questa non appaiono in questo modo ma spesso appaiono come dei focolai che si ingrandiscono ecco il primo dato riguarda la vitalità questo è un dato che ci è sembrato decisamente sorprendente perché una volta irrorata l'uva con questa sospensione di meccincovia l'uva è stata messa in fruttaio lasciata asciugare in fruttaio però la vitalità quando si ritornava sull'uva e si valutava la possibilità di ritrovare la meccincovia nel corso dell'appassimento si è visto che la si ritrovava vitale fino alla fine dell'appassimento quindi oltre i 40 giorni la meccincovia sull'uva era ancora vitale chiaramente era più alta nel dosaggio più elevato ed era a livelli più bassi o quasi nulli il dato non è qui di portato nel controllo non trattato quindi questa è già un'indicazione di quanto questo lievito possa agire anche a stadi più avanzati nel corso dell'appassimento la identità del lievito è stata confermata con questo saggio molecolare che ha dimostrato nelle prime 5 lane vedete il riconoscimento del campione prelevato dall'uva nella lane 6 vedete il riconoscimento della meccincovia vera e propria quella utilizzata nella lane 7 trovate che il saggio non riconosce altri ceppi di meccincovia quindi è anche un saggio discriminante in questo senso e questa è una buona informazione perché permette poi di fare anche diverse verifiche e sapere che quello che si è trovato sull'uva è proprio il prodotto che è stato utilizzato una modalità classica per vedere se l'uva è o non è stata protetta dall'attacco della botrite è l'analisi visiva delle uve l'analisi visiva permette di stabilire anche solo guardando e categorizzando gli acini insani e ammuffiti di stabilire quanto l'attacco è incidente sulla partita di uva allora in entrambi gli esperimenti è visibile come l'uva che non è stata trattata ha presentato degli attacchi di botrite quindi una percentuale di acini d'uva che cadevano nella categoria ammuffiti è decisamente crescente e maggiore comunque dei lotti in cui sono stati prelevati i campioni di uva che è stata trattata con Gaia sia al dosaggio 20 che al dosaggio 50 quando si è andati a stabilire se questa muffa fosse o no botrite lo si è fatto con il classico mezzo elettivo che si utilizza il BSM per vedere se era botrite e chiaramente si vede che è botrite è stata fatta anche un'analisi molecolare anche in questo caso per essere certi che si trattasse di botrite e effettivamente ora qui adesso non vi spiego il dendrogramma ma si vede bene che i campioni prelevati dall'uva sono molto più simili al certo standard di botrite rispetto ad altre specie di botritis non cinerea come botritis Fabe, botritis Belargoni botritis Pseudocinerea eccetera eccetera quindi siamo abbastanza certi che almeno in parte quello che si vede l'ammuffimento che si vede sulle uve è un ammuffimento di cui la botritis cinerea è responsabile effettivamente però questa è una visione nel tempo di quello che è stato il monitoraggio sul mezzo elettivo di botrite si vede che nell'ultimo stadio la presenza di botrite sembra diminuire cosa che non si vedeva quando avevamo fatto la categorizzazione degli acini d'uva questa discrepanza ecco noi la spieghiamo come una discrepanza dovuta al fatto che probabilmente nelle fasi finali dell'appassimento la muffa poteva essere anche una muffa non solo popolata da botrite ma una muffa diciamo data dalla presenza di molte più specie e quindi al momento in cui poi si va a selezionare solo la botrite chiaramente questo non lo si vede questa è l'analisi che vi ho fatto vedere prima che fa vedere che invece la muffa tende a crescere fino alla fine probabilmente nelle fasi finali subentrano anche altre specie che in questo studio non sono state considerate ecco anche solo visivamente le partite si presentavano tipicamente in questo modo quindi con dei focolai di muffa presenti nel campione non trattato e invece decisamente una situazione più sana nel campione trattato ecco questi sono dei focus molto più ravvicinati vedete il focolaio parte spesso da una zona circoscritta e poi si espande e invece l'uva trattata normalmente aveva dei piccoli focolai quelli ma normalmente si presentava in questo modo ecco le macchiette bianche che vedete sono appunto ancora il deposito di gaia che permane vitale sulle uve andando a vedere un po' nelle microvinificazioni ecco vi faccio vedere un paio di dati intanto la cinetica fermentativa la cinetica fermentativa dà un po' qualche volta un'indicazione della botretizzazione sappiamo che uve che presentano problematiche di muffa possono avere una cinetica ritardata più rallentata di fermentazione e anche in questo caso si è intravisto questo ovvero l'uva non trattata sembrava cioè è ha avuto una cinetica più lenta di fermentazione degli zuccheri l'uva invece trattata con gaia 50 ha avuto una fermentazione più rapida per quanto riguarda le diverse analisi che sono state fatte ecco vi riporto quella dei polifenoli un'altra indicazione della presenza di botrite sulle uve rosse che tendono ad essere motivo di detrimento di questa classe di composti di motivo di riduzione di ossidazione e in questo caso quello che si è visto è che durante la macerazione quindi durante la fase estrattiva di questi composti dalle bucce e dei vinaccioli praticamente la partita con il prodotto gaia presentava un contenuto più elevato finale rispetto alla partita non trattata siamo andati anche a vedere le diverse frazioni se c'erano differenze nelle diverse frazioni tannini flavonoidi non antociani o antociani e il dato adesso non l'ho riportato è sempre quello quindi una maggior contenuto nei lotti e nei vini trattati con gaia ecco arrivo alle conclusioni che sono il lievito gaia sembra una volta applicato all'uva sembra mantenere una vitalità sulla superficie dell'uva anche lungo tutto il periodo dell'appassimento hanno le uve trattate hanno mostrato una minor incidenza dell'induzione dell'attacco fungino un'induzione artificiale che è stata fatta quindi però certamente sembrano essere state più protette dalla presenza della meccincovia meccincovia che sembra non interferire con la cinetica di fermentazione o comunque se lo fa lo fa in modo positivo l'uva delle tesi controllo ha mostrato infatti una fermentazione alcolica leggermente più stentata di quelle trattate e le indicazioni che abbiamo del contenuto polifenolico vanno nella stessa direzione ci dicono e ci dicono che le uve trattate con gaia tendono ad avere una ricchezza più elevata in questa classe di composti sono state fatte anche delle analisi che adesso non abbiamo riportato di sensoriali e altri tipi di analisi sul vino che riportano in maniera non statisticamente significativa comunque anche una certa presenza di spunto acetico sui vini non trattati e quindi anche questo è un elemento che va nella direzione del vino prodotto da uve in presenza di marciumi o di botrite ecco con questo ho concluso